Dai la sensazione di essere una molto vitale, anche un anticonformista, insomma non sei... Sì ecco, una delle mie cose preferite, sono stata chiamata qui per i sentimenti estremi proprio perché sono un'esagerata, io lo metto, la tua equazione mi fa di perfetta, mi piace fare tutte le cose un po' di più di quello che dovrei fare. Tipo cosa, per esempio, in cosa ti senti di esagerare ma ti fa piacere farlo, lo senti così? Nel senso, non so, quando prendo degli impegni ne prendo sempre troppi, quando esco la sera esco sempre troppo tardi, faccio sempre la mattina, quando mi vesto in un certo modo, mi metto anche però il cappuccio da... E' tutta una cosa che tendo sempre a esagerare, anche nelle piccole cose di tutti i giorni, però che mi sono sempre sentita dire da tutti, dai miei, dai miei amici, che sono un po' la solita esagerata. E' il tuo modo di essere, non è che lo fai apposta, lo fai proprio perché sei così, è la tua vera natura. Comunque la mia mamma mi dice sempre di, e forse questa è una cosa saggia, mi dice mia mamma di non sciupare tutte le energie che ho, cioè non sempre appunto come faccio io invece esagerare tutte le cose, viverle troppo e voler esserci sempre in tutte le occasioni, voler vedere mille persone, voler andare in mille posti contemporaneamente e a volte veramente non riuscire a fare tutte le cose bene. E questo è un po' il mio difetto, che tante volte tendo a mischiare talmente tante cose che poi va a finire la fine. Ti senti frastornata anche tu ogni tanto da questa cosa? Però non riesco a fare diversamente perché poi, capito, apro il telefono e un mio amico che non vedo da un mese mi chiede di uscire, magari c'è proprio da fare altre mille cose, io non ce la faccio a dire no oggi non posso, oppure sono stanca, mi devo riposare che domani devo fare questo. e la mia è proprio l'istinto, l'istinto mi guida molto. Senti, tu hai detto che il Santo Padre ha invitato appunto Giorgia a cantare, ma non avrebbe mai invitato me, ecco. Secondo te perché non ti inviterebbe, per quale motivo? Non mi inviterebbe secondo me perché mi sembra di essere così poco adatta, non lo so. Ma Santo Padre, ma come? La guardi, che ragazza per bene, la sua trasgressione è che la mamma non sa come si pensa, cioè non è d'accordo perché magari un suo amico telefona, è una bambina del rosario, è una bambina del catechismo. Bisogna vedere cosa canta, bisogna vedere. Faccio un appello al papà, ma qualsiasi cosa canta, ma la vedi che bambina per bene, veramente... Speriamo che il Santo Padre la veda. Ma non lo so, comunque... Ma sì perché è una bambina della scuola, proprio una bambina... A te piacerebbe, Irene, cantare per il Papa? Ti piacerebbe? O è una battuta stata la tua? Sì, era più una battuta così perché c'è sempre questa famosa rivalità tra me e quest'altra cantante Giorgia, che poi in realtà non c'è questa rivalità. Vi conoscete, è male. Io nei sentimenti estremi in realtà sono estrema soprattutto nell'ottimismo, nell'allegria, in realtà sono molto poco estrema nella competizione, non mi piacciono le gare, non mi piacciono neanche queste idee, infatti che ci hanno opposto così i poli, i due poli, uno... Vabbè però voglio dire che questo mestiere anche per le attrici credo che non si possa non dire che non ci sia competizione. No, io non sono investiva per niente. Io è strano, sai, vi interrompo, ma tutte le ragazze che vengono qui dicono no, no, non c'è mai competizione, noi ci vogliamo sempre bene, noi... Eppure non è così, insomma, si sa benissimo che, anzi più che mai, credo che i nostri tempi sono... Ci si segue, di sicuro ognuno segue l'altra, sicuramente io ho sentito il disco di Giorgia e la guardo in televisione quando c'è, però no, io non la sento, ecco, la competizione, poi con una persona che anzi ammiro perché mi piace molto. Mentre stavamo sentendo, eccetera, io faccio la spia, mi dispiace, Irene, dice ma come fa di essere una ragazza così trasgressiva? Lo sento ancora con la mamma, dice no, mi sono trasferita da un po'. Ecco, e questo trasferimento cosa ti ha cambiato nella vita? Ecco, questo essere sola in una casa tutta tua. È il sogno che coltivavo come tutti i bambini, coltivano fino alla tenera età di 14-15 anni, anch'io l'ho coltivato tanto e finalmente sono sola e mi piace costruirmela la mia cosa e mi piace che sia completamente diversa da quello che pensavo, che si vuole. Cioè, mi piace che sia tutto per terra, che sia una casa… Mangi con le mani, lasci tutti i tanti… Che cosa fai? Mentre lo fai, dici oddio, se entrasse mamma in questo momento, cosa mi piace? Mi piace per esempio invitare a cena i miei amici quando ancora ci sono le sedie per sedersi e quindi devo dire, devi portarti la sedia a te, oppure mi piace l'idea che non c'è ancora niente in casa e quindi piano piano me la… la vivo già, insomma, pur avendo due cose da bere, un tappeto… Una bohemia da privilegiati. Anche dal punto… Sì, ancora forse non al 100% ma all'inizio di certi privilegi. Senti, dal punto di vista sentimentale invece questa tua libertà, cosa ti consente? Mi piace la libertà e l'innamoramento. Le cose che mi piacciono di più forse sono queste. Cioè, mi piace molto essere innamorata quando proprio la passione la… Hai conosciuto questi sentimenti che stai vivendo? Sì, 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 mi piacciono, io ho due tipi di uomini che mi piacciono generalmente che sono uno, gli uomini che hanno molto forti, passionali, con cui però non riesco mai avere un rapporto sereno perché mi vogliono comandare, invece io tendo a scappare, a volere la mia libertà, oppure degli uomini con cui invece sto più tempo e poi alla fine forse sono quelli che preferisco, che sono più generosi e gli piace veramente la persona perché è così, perché è entusiasta, perché è libera, perché è così, allegra. Poi alla fine penso che sia una delle mie caratteristiche principali. e uno dei miei pregi, mi hanno detto una volta, me lo dice sempre Teloni, che è il mio autore, proprio… E il tuo autore soltanto o è anche il tuo compagno? No, 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 il mio amico. Il tuo amico, sì. Teloni mi dice che sono, non allegra, proprio positiva, che la mia qualità maggiore magari è proprio perché il fatto che ride, che comunque sono entusiasta sempre e lui dice sempre che sono… eh, ma via, tante le gente mi fa un sei, eh. Eh, dice così. Beh, questo è carino la parte tua. Sicuramente si sbaglia, eh. Eh, Teloni. Senti, l'ironia secondo te è una forma di trasgressione? Sì, sì. Sì? Mi piace un sa. C'è trasgressione nei testi che canti e anche nel tuo modo di cantarle secondo te? Io ho un po' la ricerca, io cerco sempre un po' il gioco con la trasgressione, come ti dicevo prima, eh. Più… mi piace molto… perché magari vorrei trasgredire molto, però poi alla fine non trasgredisco molto e quindi mi piace giocare con il fatto che posso essere misteriosa, nel senso che posso sembrare più trasgressiva di quello che poi in realtà magari non so. Senti, Irene, tu hai molte amiche, no? Ecco, so, da qualche parte l'ho letto, comunque lo so che tu parli, ti racconti, vi raccontate ovviamente i vostri segreti, parlate dei ragazzi, eccetera. Il sesso e l'amore per te sono cose separate oppure non le puoi vivere che unite? No, no, io le posso vivere separatamente e sono… mi piacciono tutte e due un sacco e le vivo e cerco di viverle frequentemente. Hai avuto adesso delle esperienze con Pieno Daniele nel senso musicale, hai cantato con lui, è stata una cosa molto molto importante per te, no? Poi si parla di un flirt con Giovanotti e così o no? Ne hanno parlato tutti e purtroppo non era vero. Purtroppo non era vero, beh è un messaggio, ti piace? A me piace lui, sì, siccome piace un po' insomma comunque a tutte le donne. Senti, oggi che tu hai raggiunto il successo, sicuramente hai avuto degli ostacoli da sornontare, no? Negli anni passati, persone che ti hanno, se non chiuse le porte, comunque ti hanno detto di no, senti di doverti prendere delle rivincite anche magari su ragazzi come Giovanotti o d'altri che non hanno gradito il tuo sorriso, ci pensi qualche volta? No, comunque… Sì, un giorno gliela farò vedere, un giorno gliela farò vedere. Non ci hai pensato? Sì, a voglia, ci si pensa sempre, quando succede qualcosa, ci penso un sacco e magari mi costruisco delle cose. Prendi che prima o poi ti capisci, se lo ritrovi e sistemi i conti con lui? Secondo me, io sono più forte non nel farla pagare, ma alla fine nel vincere la guerra, non nel vincere la battaglia, cioè che alla fine comunque la gente ha un buon ricordo di me più di quanto magari non me ne lasciano le persone, cioè alla fine risulto più positiva io come persona e allora questa cosa mi piace di più ancora. Quindi hai già il programma tuo, prima o poi, si sistemano. La castità è un sentimento estremo? Non trovo che sia una virtù, cioè non trovo che una persona che si mantiene casa dal punto di vista sessuale, trovo che tenda a non dare, cioè è una persona che si trattiene, perché siccome è una cosa che ritengo una delle cose più belle che abbiamo nella vita, insomma stare insieme a una persona, volersi bene, far l'amore, far tutte queste cose qua, non vedo perché una persona, secondo me, cioè è un tipo di voto che mi sembra che impoverisca la persona, perché secondo me il sesso... Non è detto affatto che... Hai espresso il tuo parere? Faremo sì.